Vuoi assumere nuovo personale nella tua azienda ma non sai dove trovare la persona giusta? Con il Recruiting 5.0 di Time Vision puoi migliorare, velocizzare e rendere conveniente la ricerca delle figure professionali di cui hai più bisogno. Ecco tre buoni motivi per affidarti a noi. Numero 1. I nostri consulenti sapranno capire i fabbisogni occupazionali sia in termini di profili che di competenze. Numero 2. Sarà possibile pubblicare su tutti i portali specifici e già a bordo gli annunci in modo strutturato e puntuale. Numero 3. Si potranno facilmente selezionare i profili ritenuti più interessanti e fornire costanti aggiornamenti. Inoltre i consulenti di Time Vision potranno anche fornirti tutti i consigli necessari sulle misure e sugli incentivi a cui poter accedere e provvedere anche alla formazione obbligatoria prevista dal contratto di apprendistato professionalizzante, alla formazione obbligatoria a valere sulla sicurezza sui loro di lavoro e all'attivazione di percorsi di tirocinio extracurriculari. E quindi cosa aspetti? Contattaci oppure visita il nostro sito.